La stazione di Roseto Capo Spulico è una stazione ferroviaria italiana che si trova lungo la linea metà punto reggio di Calabria. L'impianto risulta privo di traffico dal giugno 2016. La stazione, aperta insieme alla linea nel 1875 circa, fino agli anni 60 del 900, si trovava in un piccolo casolare sito a pochi metri dalla posizione attuale. Inizialmente strutturato come stazione dotata di binario d'incrocio, l'impianto venne trasformato in fermata il 19 dicembre 2013. La stazione di Roseto Capo Spulico è una delle più nuove della linea, avendo vissuto una ristrutturazione con ritinteggiatura della facciata delle FD solo qualche anno fa. I lavori di rifacimento sono avvenuti in virtù dell'assegnazione dello scalo all'Associazione Nazionale Carabinieri, che occupa il piano terra del fabbricato. Anche qui, come ad Amendolara, è rimasto solo il binario di corretto tracciato, il primo, mentre il secondo è stato segato dalla rete. Effettuava fermata l'unico regionale, alle ore 6 e 17 verso metà punto e alle ore 8 verso Sibari. Lo scalo è il punto di riferimento intorno al quale si è sviluppata la borgata marinà, che tra giugno e settembre tocca i 20.000 abitanti per poi tornare ai 700 nei mesi autunnali ed invernali. Del tutto assente il parcheggio, in stazione non vi sono altri binari anche se restano le tracce di un tronchino a servizio dello scalo merci demolito. Gli autobus sostitutivi effettuano fermata all'esterno, i monitor risultano non funzionanti e la pensilina per l'attesa dei passeggeri che insiste sulla banchina del primo binario è semivandalizzata. Basta con queste chiusure dannose, riapriamo rosetto capo spulico.